La dichiarazione per la stampa Un offizio per l'anno nuovo Grazie Si passa un offizio per l'anno nuovo Mamma un video Vabbè, pazzo Oltre a questo Non speri di ricevere sotto l'albero Non ho mai visto E dì che questo gatto riguarda E' spavessi Non ho capito Plastica, plastica Silicone Silicone Buongiorno Cosa hai ricevuto tu da questo uomo per Natale? Non lo so, ancora Ad ancora arrivare? No, non so E tu da questa donna cosa hai ricevuto? Non so neanche lui Niente, un cazzo Che strunno Dai, cosa ti ha fatto? Eh, vabbè, se non fare quegli occhietti Cos'è stato il mio regalo di Natale, signor Enrico Prigion? Riccardo, Riccardo No No